Ben ritrovati su Rete Veneta, un nuovo appuntamento con Linea Diretta, oggi abbiamo ospite in studio, il presidente di Etra, Flavio Frasson, benvenuto, bentornato. Un tema come il titolo della nostra puntata, che è quello ovviamente della raccolta differenziata, in crescita, raccolta differenziata che ormai il presidente è un'abitudine, credo che a nessuno verrebbe in mente di fare diversamente a casa propria. È stato un fatto culturale importante, io devo da questo punto di vista ringraziare i nostri cittadini, concittadini che fanno la raccolta differenziata con molta precisione. Tenga presente che nel 2023 abbiamo superato l'81% di raccolta differenziata, siamo quindi molto vicini a quell'obiettivo che la regione ci ha posto per il 2030 dell'83-84%. Ci siamo avvicinati molto e questo è per merito dei nostri cittadini, non è mica perché siamo bravi noi. Io mi ricordo quando nel lontano, mi pare fosse intorno al 96-97, quando a livello comunale abbiamo cominciato a fare le prime raccolte differenziate e non è stato semplice. Però devo dire che i cittadini hanno colto il messaggio positivo che viene da questo tipo di attività, che è un messaggio di civiltà, un messaggio di rispetto dell'ambiente e poi diventa oggi anche un messaggio economico importante perché il rifiuto oggi trattato come lo trattiamo diventa quasi una risorsa, una materia prima. Tutto ciò che è riciclabile appunto, dall'umido, la plastica, il vetro che poi ha una vita lunghissima. 2022 77,6% e 2023 come ha detto lei 81,1%. Quindi più 3% in un anno è ben più dell'inflazione, benvenuto questo più 3,5%. Diciamo che abbiamo anche messo in atto un sistema, una strategia di raccolta e di conferimento variegato in maniera tale da dare la possibilità ai nostri concittadini di utilizzare il porta a porta, ma anche gli ecocentri ai quali si accede 24 ore al giorno con le ecotessere, con le nostre tessere di accesso, le ecopiazzole che tanta polemica hanno stato soprattutto a Bassano quest'estate e invece sono uno strumento aggiuntivo, non sostitutivo, aggiuntivo che permette ai cittadini di portare in qualsiasi ora del giorno i rifiuti che magari per motivi di spazio, per motivi più vari non possono essere tenuti in casa, possono essere portati alle ecopiazzole. Ci sono appunto dei rifiuti, oltre a quelli ordinari di produzione praticamente quotidiana che ognuno di noi può testimoniare, sono alcuni casi particolari che vogliamo vedere insieme. Partiamo dall'olio, l'olio da cucina, quello da frittura, non quello delle macchine che fa un altro percorso. No, le macchine fa un altro percorso, ma l'olio della frittura, l'olio che usiamo in cucina, ma anche l'olio delle acciughe, tanto per dire, che troviamo nei vasetti, va recuperato perché se disperso nell'ambiente è altamente inquinante, sui corsi d'acqua ancora di più perché di fatto rende impermeabile la superficie dell'acqua anche allo scambio gassoso che normalmente c'è. Con questi nuovi contenitori che abbiamo installato nei nostri comuni abbiamo fatto un grande passo avanti perché mentre prima bisognava sversare l'olio, adesso lo si conferisce mettendo la bottiglia intera dentro il contenitore. In questa maniera tutto avviene in maniera più pulita, ma soprattutto, voi non pensate, ma a noi veniva rubato quest'olio. Cioè qualcuno lo riutilizzava? Veniva rubato perché dall'olio esausto, diciamo così, si ricavano biocarburanti. Con questo nuovo sistema praticamente noi abbiamo quadruplicato la raccolta. I dati degli oli mi dicono che siamo passati da 86 mila chilogrammi a ben 301 mila chilogrammi di raccolti di olio esausto. Voi capite che questo noi lo conferiamo a ditte specializzate che poi lo trasformano e quindi prendiamo dei soldi che poi detraiamo dai costi in maniera tale che i cittadini ne hanno beneficio in bolletta. Quindi per cui più noi ricicliamo, più prendiamo in termini di vendita e di premi, per esempio i consorti di conferimento ci premiano, anche Arera ci premia, ci dà qualcosina per i nostri risultati ogni anno. E quelli sono tutti soldi che vengono detratti dai costi e quindi servono in termini positivi ad alleggerire la bolletta. Oltre 300 mila tonnellate, lo ripeto il dato perché è impressionante, nel 2023 nel bacino di raccolta dietro, un servizio che dunque andrete a potenziare, questo della raccolta, ci sono appunto queste campane che abbiamo visto? Certo, per esempio adesso abbiamo parlato degli oli esausti, ma la strategia è anche quella del tessile con la raccolta del vestiario, qui abbiamo fatto delle convenzioni con le cooperative sociali per cui ci effettuano il ritiro dai nostri cassonetti che abbiamo distribuito, li vedete nelle immagini, sul territorio di Etra e questi sono tutti quanti materiali che vengono avviati o al mercatino degli abiti usati, oppure comunque vengono utilizzati, trattati, macinati per fare isolanti che possono essere utilizzati in edilizia o anche nell'industria dei mobili e quindi vengono sottratti dal ciclo dei rifiuti, quindi è una riduzione del rifiuto, della protezione del rifiuto perché sono materiali che vengono utilizzati. L'altra strategia che abbiamo messo a punto quindi, gli oli, il vestiario e sono i centri del riuso, per il momento ne abbiamo sei, uno qui a Bassano, uno a Campodarsi, uno a Piazzola, uno a Roana, uno a Rossano e uno a Selvazzano, cosa sono i centri del riuso? Sono dei centri che si trovano presso i nostri ecocentri, scusate il gioco di parole e c'è del personale dedicato per cui quando uno porta un materiale all'ecocentro viene valutato se è riutilizzabile. Qualche esempio? Per esempio, si decide di eliminare in famiglia una serie di sedie perché non servono più. queste sedie normalmente vengono buttate al macero, ma se sono in buono stato potrebbero servire a qualcun altro, quindi nel momento in cui si arriva all'ecocentro dove c'è il centro del riuso, il funzionale dice no, guardate che questa può essere utilizzata, di fatto viene dopo immessa sul mercatino dell'usato e quindi può essere utilizzata da qualcuno che ne ha bisogno e in questa maniera si sottrae un qualcosa che potrebbe diventare rifiuto e ci si dà una nuova vita. Quindi riduzione del rifiuto, riutilizzo di materie prime, ma soprattutto chi consegna un materiale riutilizzabile riceve anche un bonus per poi poter accedere magari al mercatino dell'usato sia dal vestiario che dal… Ecco, è interessante il fatto che questi centri del riuso siano affidati a delle cooperative sociali. Sì, noi siamo un'azienda che lavora volentieri con le cooperative sociali, cooperative che fanno inserimento in percentuali importanti di persone svantaggiate, quindi inserimento lavorativo e visto il nostro ruolo di società non benefit ci sembra anche giusto dare un contributo in questo senso, quindi far lavorare anche queste cooperative che fanno questo tipo di inserimento. Diciamo che è un senso sociale più ampio, perché poi c'è anche il bilancio sociale di cui magari parleremo in un'altra occasione. Il tema che comunque voglio mettere in evidenza è che noi non siamo una società, siamo una SPA e quindi dobbiamo fare anche il profitto, però non è il nostro principale interesse fare il profitto, noi dobbiamo fare servizi fatti bene, ma dopo la nostra funzione è soprattutto sociale, noi siamo un'azienda del territorio, il valore aggiunto di Etra rispetto a un privato qual è che siamo un'azienda del territorio e trasferisce sul territorio tutta una serie di benefici che dopo vengono condivisi da tutti. Vi faccio solo un esempio, noi abbiamo circa 1.100 dipendenti, sono 1.100 stipendi che vanno nelle nostre famiglie perché i nostri dipendenti sono tutti del territorio, il bilancio sociale dice che il 75% del volume d'affari che noi facciamo come azienda resta sul territorio Veneto, il 45% resta nelle province di Padole e di Vicenza, quindi noi siamo anche un ente che ha un ruolo nell'economia del territorio e il nostro adesso apertura verso come società benefit, verso obiettivi di tipo di beneficio comune ci porterà sempre di più a potenziare questo nostro ruolo. Chi segue Rete Veneta sa che spesso ci occupiamo di rifiuti, di quelli che qualcuno non rispettando le regole lascia in giro e spesso capita di vedere nei posti meno appropriati anche dei rifiuti ingombranti, come andrebbero trattati gli ingombranti? Gli ingombranti prima di tutto sapete che c'è un numero verde per cui ogni cittadino ha diritto al ritiro degli ingombranti entro a determinati limiti dei volumi o di peso, però è previsto questo servizio, basta chiamare il numero verde, l'operatore risponde, fissa l'appuntamento, verifichiamo che tipo di ingombranti sono, tenete presente che devono essere ingombranti non pericolosi, per esempio le Eternit non le ritiriamo direttamente, ci avvaliamo anche noi di ditte specializzate perché per le Eternit e per l'amianto bisogna avere una cura particolare e anche una procedura particolare, però è un servizio che noi facciamo, è un servizio che viene anche utilizzato per cui non ha senso abbandonare i rifiuti lungo le strade o lungo le canalette, è un problema importante questo qua, non so, nell'Alta Padovana per esempio abbiamo spesso abbandoni da parte di artigiani perché si vede chiaramente che sono prodotti di manutenzioni o di lavori e quant'altro perché quando ti scaricano mezzo furgone dentro di sacchi che dopo noi dobbiamo andare a recuperare con costi sociali importanti perché il camion con il ragno, con l'operatore che deve andare costa soldi e sono soldi di tutti quanti noi, io inviterei i nostri amici artigiani, noi tra l'altro facciamo il servizio anche per le nostre aziende e quindi a contattare la nostra realtà, la nostra Etra e farsi fare qualche preventivo per quantità di tipo produttivo, industriale, per gli ingombranti, il materasso, la rete da letto che avete smesso, c'è il numero verde, si chiama il numero verde, è un'attività che facciamo gratuitamente. Ci sono anche delle telecamere però? Abbiamo su richiesta proprio dei nostri sindaci abbiamo messo in piedi questo progetto di telecamere mobili e nascoste per l'abbandono dei rifiuti, noi lo facciamo in convenzione con i comuni perché noi forniamo le telecamere, forniamo il personale tecnico, le montiamo nei punti ritenuti critici, individuati, però dopo tutta la fase di visura e di contestazione viene fatta dai vigili urbani, è un'attività importante, abbiamo speso in telecamere circa 120 mila Euro, ma stiamo pian pianino coprendo il territorio in base anche alla gravità degli abbandoni, è un deterrente, non è che risolviamo il problema, però è un deterrente, i cittadini che abbandonano i rifiuti in maniera incivile devono sapere che potrebbe esserci una telecamera che li riprende e le sanzioni sono molto pesanti perché vanno dalle 400 Euro in su. Molto più che fare la fatica di fare il conferimento regolare. Esatto, quindi questa attività molto richiesta dai sindaci è stata avviata recentemente, abbiamo alcuni comuni già coperti, alcuni anche sull'altopiano di Asiago e stiamo estendendo pian pianino questo tipo di servizio che non dovrebbe esserci perché lo spirito di civiltà dovrebbe, che dovrebbe rimarci, dovrebbe portarci proprio al non abbandono dei rifiuti. Siamo in chiusura perché il tempo passa velocemente ma credo che ci rivedremo prossimamente per altri dettagli, quindi insomma rievidenziamo questa crescita della raccolta differenziata. L'obiettivo per il 2024? Beh, l'obiettivo secondo me è quello di arrivare quest'anno a superare la soglia dell'82, insomma ecco un punticino ci potrebbe stare. Dovete sapere che la raccolta differenziata funziona un po' come la dieta, quando fai la dieta i primi chili fai presto buttarli via, anche qui le percentuali un po' più basse hai fatto presto a raggiungerle, sono le ultime, quelle più, la salita finale che si fa fatica, quindi la butto così in battuta però il nostro impegno è massimo per raggiungere quegli obiettivi che la regione ci ha dato con il nuovo piano dei rifiuti regionale. C'è da tenere presente anche un'altra cosa, quando prima parlavo di valore aggiunto, noi abbiamo un'attenzione particolare anche per i nostri dipendenti, non solo per le cooperative ma anche per i nostri condipendenti, noi siamo un'azienda che cerca di far lavorare i nostri aziendi in ambiente sicuro prima di tutto, quindi prevenzione dei infortuni, in un ambiente sereno, quindi anche dal lato psicofisico che devono lavorare in maniera serena, prevenendo soprattutto le malattie professionali che sono molto frequenti nell'ambito dei rifiuti, perché provate a pensare un raccoglitore che deve svuotare del secchiello, dell'umido, peserà poco, ma magari lo fa 300 volte al giorno, magari qualche problema articolare ce l'ha. Noi siamo molto attenti a queste cose perché ci sembra giusto e anche questo va nell'ottica di società benefit attenta anche ai nostri lavoratori. È un tema sul quale torneremo, intanto ringrazio per questa presenza il Presidente dietro, Flavio Frassone e noi ci diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie per averci seguito.